Entrerai con loro, io poi dirò mettetevi qua perché faccio il pallone di casa, va bene? Loro si metteranno qua con te, dalle due, tu ti metterai qua, dopodiché puoi guardare liberamente tutto quello che succede in questa casa di Matti, va bene? L'importante è che non parli mai perché non c'è il microfonino attaccato, va bene? Poi alla fine, non c'è cosa che succede alla fine, è che questo signore strano strano senza testa, viene qua, quando fa così lo guardi e lo guardi qua, vedi? Lui la faccia anche da qua, lo vedi questo occhio qua, questo è il suo occhio e lo guardi là, noi andiamo tutti via e rimani tu da solo a guardarti questo signore, va bene? Allora, se noi stricco, se ci saranno qualche strillo eccetera, tu non ti spaventare, ovviamente facciamo, noi giochiamo, facciamo film.